questa storia incomincia da qua si bella presto caffettino rigorosamente allungato un po' all'americana so che non è molto italiano però chi se ne frega un salto nell'orto oggi sono le prime zucchine da prendere un po' di orgoglio anche perché ormai è un mesetto che siamo partiti con l'orto e sono veramente veramente euforico nei prossimi giorni magari faremo anche un video vi porterò un po' nell'orto vi spiegherò un po' cosa sto facendo e cosa non sto facendo anche perché so che ci sono molti nomadi molti di voi che ci seguono che effettivamente lo fanno in giardino lo fanno in un pezzettino piccolo di terreno lo fanno sul balcone o sul foggiolo alla genovese e quindi sì perché no ho studiato molto e un po' amatoriale però a dar due dritte o a me le dritte le andate perché non darne anche gli altri quindi dare la possibilità a tutti magari di mangiarsi due pomodori o la possibilità magari di mangiarsi due zucchini perché no sto andando all'edile i bavari ormai settimana veramente tosta anche perché ho quantificato quattro cuffie per finire un lavoro invece ce ne vogliono 12 qui sono tre giorni che facciamo antidietro e niente quindi settimana tosta perché stiamo per partire per il lago di garda e quindi stiamo organizzando un po' di robine perché abbiamo intenzione di fare un bel blog tour da quelle parti come abbiamo fatto l'anno scorso che è stato molto bello e stiamo contattando un po' di vecchie amigizie sul territorio noi stiamo cercando di nuove abbiamo inserito anche una nuova persona in un organico di famiglia nomade quindi una persona che lavorerà con noi un po' alla stesura dei contenuti creazioni di questi e sarà una settimana che oltre a questo sono anche arrivate le piastrelle da iperceramica come se non bastasse quindi dobbiamo andare a recuperare tre tonnellate 840 kg di piastrelle che sono circa quattro tonnellate che devono farci un bel po' di mazzo gratuzza deve andare a finale ligure a portare leo che farà un paio di giorni con il suo amico e con la sua mamma al mare anche con i migliori amici bisogna un po' anche coltivarle le amicizie ragazzi tanto tanta 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 fatica e non vedo l'ora che partiamo anche se forse non è italianissimo però almeno avremo anche un po' la possibilità di stare attra di noi anche se poi effettivamente partiamo per lavoro però staccare un po' cambiare anche perché poi io in casa ragazzi non sto fermo un attimo perché sono lì e dico oggi non faccio niente ma ma che cosa dico quando mai perché anche se dico oggi non faccio niente e mi metto le ciabatte sto con le picche sto che dico non faccio niente tanto vado a legare i pomodori tolgo le erbacce e do l'acqua alle piante e poi magari non so vedo un filo che non mi piace lo sposto e prendo quello e prendo quell'altro cioè alla fine in pace non ci sto mai l'unica differenza tra la giornata che dico oggi mi riposo un po' e la giornata che dico oggi lavoro è semplicemente che nella prima ho le ciabatte e nelle seconde ho le scarpe da lavoro antinfortunistiche insomma settimana la prima settimana senza scuola e siamo già a cannone a pallettori rimanete con noi ragazzi perché sarà un'estate di fuoco ciao 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 ciao